L'Areno dei Medici Group ha avviato l'iter di cessazione dell'attività dello stabilimento cartario di Villa Santa Lucia. La comunicazione ufficiale è stata fatta dalla proprietà a un'industria frosinone. L'azienda, finita al centro di una vicenda giudiziaria per presunto inquinamento ambientale, ha annunciato il licenziamento dei 163 operai. Per questo, dopo una lunga assemblea che si è svolta all'ingresso dell'azienda, tra i rappresentanti delle sigle sindacali e dipendenti, si è deciso di organizzare una grande protesta che si terrà il prossimo 19 gennaio a Cassino. La decisione della chiusura per il sindaco di Villa Santa Lucia, Orazio Capraro, impone una massiccia opera di sostegno a tutela non solo dei dipendenti, ma anche degli oltre 150 operai a servizio dell'indotto. Per questo motivo il primo cittadino chiede la convocazione della consulta dei sindaci presso il comune di Cassino, nonché la mobilitazione generale di tutte le istituzioni in vista della protesta. Non è tollerabile, dice, che l'unica industria florida presente nel Cassinate debba smantellare la produzione e trasferirsi altrove. Sulla cartiera Reno dei Medici va aperto immediatamente un tavolo con la Regione Lazio per gestire la crisi assieme anche alle parti sociali e datoriali. Lo dichiarano invece in una nota il consigliere della Regione Lazio di Azione, Alessio D'Amato, il segretario provinciale di Frosinone, Antonello Antonellis, e il presidente provinciale, Massimiliano Quadrini. Se vi sono questioni autorizzative e burocratiche, dicono, vanno rapidamente verificate dalle istituzioni competenti. Il consigliere regionale D'Amato annuncia una interrogazione su questo tema alla Regione Lazio.